Grande Ciro, Grande Ciro Mertens, insomma, sembra che siamo in dirittura d'arrivo, pare che l'accordo ci sia e che quindi una delle riconferme più importanti per questo Napoli vada in porto. Certamente, insomma, speriamo che, fino a che non c'è la firma, noi non possiamo festeggiare, perché c'è da festeggiare, perché è come un acquisto importante, avere un Mertens ancora per un paio d'anni, è un giocatore che dà e darà molto a Napoli. Poi un giocatore, rendetevi conto che, insomma, ora si parla di Milik che se ne vuole andare, e io, insomma, non dico un big a loro, però io ho sempre criticato Milik con una rabbia, prima perché mi sta simpatico come persona, però è sempre la rabbia di vedere un giocatore che aveva, ma non è colpa sua, o Meritens, le qualità c'ha, c'ha chi lo dire, che è spettacolare quando riesce a metterlo in moto, a trovarsi in quella situazione, sì, però per il resto, niente, niente, a me, cioè, io preferisco, cioè, secondo me, liberarsene è un equivoco, un equivoco, e quando un giocatore è un equivoco, che non sai se può essere il grande attaccante, oppure no, e rimani sempre che una partita ti fa che lì due gol, due gol, due reti, che poi, poi, e poi, insomma, poi le partite importanti devi dare il segno, devi mettere il segno. Allora, un Meritens, tanto per cominciare, è già garanzia di avere un centroavante, perché il Napoli gioca così, cioè, non è a colpe testo, non ci interessa, il Napoli gioca per terra, cross, no, cross, non ne fa, quindi, cominciamo a stabilire, che, insomma, insomma, in segno, Meritens, piccolini, vari, insomma, il Napoli quello è, quindi Meritens è garanzia, anche se dovesse essere lui il centroavante, ma, se no, poi se ne compro un altro, a me, Milik vuole andare alla Juve, per me, Sarri vuole Milik alla Juve, sono fatte le sue, a me, non lo vedo neanche da Juve così, però, a me, puoi andare, puoi andare, dateci qualcosa di soldi, poi potete andare. Per quanto riguarda, eh sì, ma, però, in tutto questo, il mercato, deve cominciare un campionato, la Coppa dei Campioni, abbiamo il ritorno, ma, attenzione, se tutto ciò viene fatto, perché, mo, la gente si sta scordando, non capite niente, e come per noi, a casa, no, e tanto per cominciare, se il campionato è legato a non avere dei casi positivi, scordiamoci, quindi, io spero, e mi pare che così abbiano fatto, spero che, insomma, siano un po' più larghi di vedute, nel senso che, vabbè, nel caso ci sta, la quarantena, insomma, non si chiude il campionato, insomma, la quarantena la fanno chi lì là, insomma, non lo so, insomma, ma, comunque, è una cosa così, per il resto, anzi, Mertens ci farà vincere, se si gioca la Coppa dei Campioni, vinceremo la Coppa dei Campioni, perché, 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 perché noi dovremmo andare a giocare, insomma, saranno Coppa dei Campioni a consigli, insomma, andremo a giocare a Barcellona senza pubblico, che vuoi giù? Più regalo di questo, certo, ripeto, uno può anche essere, cioè, a me piace, preferisco vincere contro tutti gli ostacoli, però, ovviamente, abbiamo parecchie possibilità, secondo me, anche perché, mentre noi andremo con il massimo, insomma, dell'impegno, perché noi sappiamo che giochiamo il Barcellona, il Barcellona, si, sai, gioca contro il Napoli, ma pensa che sta in casa, ma il tifo non ci sta, e queste piccole sfumature vengono, quindi il Napoli, se si gioca a Barcellona, si giocherà, prima o poi, se si riprendono le partite, si gioca, si va a Barcellona, si vince, e segna Mertens, poi, abbiamo, il campionato, il campionato sarà sballato, il campionato, se si riprende, non si capisce, senza tifo, senza cosa, però va bene così, e sarà un campionato che il Napoli potrebbe, potrebbe anche fare, la mia idea è che il Napoli potrebbe, dipende da come, dalla testa come sta, come Gattuso fa la preparazione, potrebbe arrivare al terzo posto, al quarto posto, scusate, quarto posto, utile, ovviamente, per, che è utile per ritornare poi in Champions League, anche se ho detto che praticamente il Napoli poi vincerebbe, ecco, clamorosamente, allora non c'è manca bisogno di arrivare, quindi perché il vincitore comunque va di diritto, però, nel caso che non vincesse il Napoli, eccetera, ecco qua, noi ci potremmo puntare comunque al quarto posto, il quarto posto perché? Perché l'Atalanta che stava, stava in pompa magna, stava distruggendo 5 a 1, 7 a 1, vinta a 1, tutte le squadre, è stata bloccata, cioè la psicologia è importante, tu blocchi a uno che sai andare, non è che torno come a prima, quindi, e soprattutto, l'Atalanta avrà, 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 anche lei come noi, però lei con qualche possibilità, perché mo' praticamente l'Atalanta deve, insomma, mirerà a fare qualcosa in Champions League, e quindi, no, si distrarrà. Ora, diciamo così, quindi abbiamo chiuso il discorso, Napoli, vincitore della Coppa dei Campiò, è quarto posto in classifica, ora, vabbè, speriamo, speriamo, ma speriamo che si riesce a portare avanti tutto ciò, ricordiamoci la Coppa Italia, ma questa Coppa Italia non si sa che si fa, vediamo che vince tutto cosa, approfittiamo, approfittiamo del meglio di niente, ecco, ma può succedere di tutto. Comunque, tornando alla discussione, per quanto riguarda il coronavirus, signori, qua ricordiamoci che è una cosa importante, che noi ci stiamo dimenticando, qua, oggi vedo che in Lombardia stanno risalendo, ora, io la mia opinione è una sola, chiudete il sud, praticamente eliminate da questa Italia, o questa parte d'Italia, eliminate Lombardia, Piemonte, Liguria, perché la Liguria è un posto pericoloso, un posto che uno dice, vabbè, ma perché le Liguria stanno poco? No, non ti preoccupare, Liguria, Veneto anche, il Veneto perché il Veneto, ma la fatta, eccetera, eccetera, io le eliminerei queste, certo, il Friuli sta isolato, il Friuli è controllato, non ha avuto problemi, il Trentino, eccetera, e vabbè, fanno zumba, che potremmo fare, però, diciamo, isolate queste qua, tendenzialmente, quando tu chiudi, è una cattiveria o qualcosa, io non voglio avere i turisti da un posto infetto, perché mi viene a infettare pure a me, e che valore, che senso ha sta cosa, la cosa più grave, attenzione, però la cosa più grave, quella che veramente, sinceramente, mi rende molto scettico, è l'apertura del turismo internazionale, europeo per il momento, sì, ma europeo per il momento, ma perché negli altri paesi, tu apri a quelli che ti vengono a infettare, insomma, male che vada, o bene che vada, stanno al nostro livello, male che vada stanno peggio, insomma, perché poi, fanno questi calcoli, e vedi, c'hanno pochi, c'hanno pochi, all'Austria c'ha poco, ma l'Austria c'ha poco, 50, 60, 80, ogni giorno, di nuovi, però c'ha 9 milioni di abitanti, quindi tu ti moltifichi per 6, per 7, vedrai che fai più o meno quelli, cioè, gli altri paesi sono infetti e pericolosi, così come l'Italia, quindi tu apri per avere gli infetti, immaginate il sud, immaginate a Sorrento, arrivano i tedeschi, arrivano i francesi, arrivano i belgi, arrivano gli olandesi, a Sorrento, a Capri, eccetera, se è inguaiato a Capri, è ovvio, è ovvio, quindi io, non dico spero, ma spero che ci sia qualche segnale, prima che aprano sti, sti cosi, io prevedo che ci sarà una risalita, come già sta incominciando, per esempio, in Lombardia, forse il sud si salva, ancora, ecco, questo ti dimostra pure che, con un po' di forza, con un po' di forza, si poteva proprio azzerare tutto, il mio parere è questo, gli unici turisti, gli unici turisti sicuri, sono i cinesi, perché? Perché hanno debellato, l'unico paese al mondo, qui, un, due, tre casi sporadici di qualcuno, che viene dall'estero, eccetera, debellato il virus, quindi, gli unici sicuri, garantiti, sono i cinesi, io, al mio paese, al mio paese, è una zona sud, eccetera, con un'apertura limitata, turisti, grande convenzione, grandi accordi con Cina, turisti cinesi, così, a volontà, gli unici che, è il sud, farà una bella, comunque, la cosa, soprattutto, il sud deve, tra loro, i turisti devono, devono interagire, insomma, devono andare a una parte nata, che stai, cioè, se voi pensate, che sia finito, state sbagliando, alla grande, voi basta che allentate, che se ne mostro, questo virus è un mostro, come allentate, si infila, non ci stanno santi, se tu apri, spalanchi le porte, a tutti quanti, venite a casa, state, è finito, questo è, questo è il mio parere, da, da inesperto, però con l'intelligenza, di poter valutare le cose, quindi così, comunque la notizia, migliore al momento, è quella di Mertens, Mertens, che è un giocatore, un giorno dovremmo fare, una statua, la statua, di San Ciro, la trasferiamo, a Napoli, da Portici, e ci mettiamo, e ci mettiamo, il volto di Mertens, così, vediamo come va, comunque, a più presto, vedete, di firmare, chiaro, Dela e Mertens, fateci il suo piacere, e cominciamo, a fare le cose serie, arrivederci.